Siamo con Michaela Zingerle, direttore di Bike Hotel Salto Adige e le chiediamo che cosa vuol dire oggi essere un Bike Hotel e che cosa rappresentano? Prima di tutto essere un Bike Hotel vuol dire di essere appassionato della bici della mountain bike, di conoscere l'ospite e di essere soprattutto da se stesso in bici, solo così puoi essere autentico e puoi capire le esigenze del tuo ospite, poi come uno dei requisiti più importanti abbiamo che l'albergatore deve essere una guida cicloturistica, deve conoscere le bici dalla e-bike fino alla bici da corsa, deve sapere cosa sono le esigenze non solo dell'ospite ma anche di quelle che ha bisogno, le cose di quali l'ospite ha bisogno anche essere quando è in tour, quando è in giro, quando gira. Certo, e cosa vuol dire essere una Bike Guide? È una professione come il maestro di sci riconosciuto? Non è proprio una professione riconosciuta ma c'è da fare un corso che dura nove giorni dove impari proprio tutto da A fino alla Z cosa vuol dire vuol dire essere in giro con gente, cosa vuol dire accompagnare gente in modo professionale. Ok, grazie mille, buon lavoro! Grazie!